E ora in diretta Garzia per Gamma Innovation, un autentico playmaker dal fronteo sardanese in mezzo alla pista. Garzia, dimmi tutto tu, penso vittoria migliorata di Sardana. No, è stata una partita molto combattuta, molto dura, loro sono una squadra che giocano e non mollano mai, quindi si è visto che se avassi un attimo la concentrazione loro subito si rientrano in partita, quindi noi dobbiamo maturare questo punto di vista perché... Dobbiamo crescere su questo aspetto. Certo, certo. Con il Montebello c'era stata quasi una fotocopia dell'incontro di stasera. Sì, sì, alla fine quelle due squadre sono squadre che non mollano mai, il campionato nostro è completamente competitivo, se ti rilassi con una squadra... Il livello dell'occhio è molto livellato il campionato. Sì, sì, questo è bello perché ti porta a avere tutto il tempo un atteggiamento molto di concentrazione, molto alto, molto di spingere, molto di continuare a crescere, perché si vede che se ti avassi un attimo la concentrazione subito va in crisi. Grazie. Grazie. Grazie.